Terminate abbuffate e bagorni natalizi è tempo di accantonare panettoni mercanti in fiera e tornare in campo per Castel del Piano e Massamartana che al comunale Liborio Menicucci si affrontano nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato regionale di eccellenza. La squadra del tecnico Luigi Abbenante dopo aver concluso il 2018 con il blitz esterno in quel di Ponte Valleceppi cerca conferme e punti interni per continuare la rincorsa alla zona playoff. Dall'altra parte invece i massetani reduci della sconfitta Beffa in rimonta contro il Foligno hanno tutta l'intenzione di iniziare il nuovo anno con il piede giusto per allontanare ancora di più la red zone della classifica. Arbitro dell'incontro è il signor Giulio Nicchi di Gubbio coadiuvato dagli assistenti Quaglia e Buabacher di Foligno. La cronaca. Passano appena tre minuti di gioco e gli ospiti provano a sfruttare il primo calcio piazzato utile. Punizione dalla sinistra di Angeli. Palla spizzata nel cuore dell'area di rigore da un compagno di squadra e ottimo intervento di Cocchini che in tuffo plastico riesce a sventare il pericolo rifugiandosi in corner. Ancora Massamartana pericoloso al ventitresimo. Preciso cross dalla destra per la testa di Gesuele che da pochi passi non dovrebbe fare altro che spingere in rete ma provvidenziare in extremis è l'intervento della retroguardia di casa che in affanno salva tutto mettendo in calcio d'angolo ed evitando così il peggio. La squadra di Corradetti spinge forte il piede sull'acceleratore e al trentunesimo serve il miglior Cocchini con un grande riflesso per negare il vantaggio agli ospiti sulla conclusione a botta sicura di De Santis da fuori aria. E questa l'ultima emozione dei primi 45 minuti con le riprese del montaggio di Mario Sacchetti passiamo quindi alle immagini del secondo tempo. Al settimo interessante iniziativa dei padroni di casa la conclusione di Federici è strozzata ma molto angolata con Tamburini che ha il suo bel da fare per riuscire a mettere in calcio d'angolo. Mister Avenanti deve essere stato molto convincente negli spogliatoi perché al dodicesimo il castello del piano sfiora di nuovo il vantaggio. Conclusione a botta sicura di Menichini e altro grande intervento di Tamburini che respinge come può. Al diciottesimo da segnalare l'espulsione del tecnico dei padroni di casa dopo qualche presunta parola di troppo ai danni del direttore di gara. Con il trascorrere dei minuti il match inizia a vivere una fase di stallo dalla quale prova a farla uscire al trentacinquesimo alabastri inarrestabile sgroppata sulla destra del centrale di difesa del Massamartana che arriva fino in fondo e mette in mezzo un pallone ottimo sul quale però nessun compagno di squadra riesce ad arrivare con l'azione che sfuma così con un nulla di fatto. La partita si riaccende all'improvviso e al trentanovesimo Emercus a scoccare un gran destro dalla lunga distanza. Sfera che sembra essere diretta all'angolino alto ma è prodigiosa ancora alla parata di Tamburini che in volo salva tutto e mette in corner. Nonostante gli sforzi profusi dalle due squadre non basteranno i due minuti di recupero per sbloccare il risultato a proprio favore. Al comunale Liborio Menicucci tra Castel del Piano e Massamartana finisce 0-0. Mister Corredetti tecnico del Massamartana, un primo tempo dove il Massamartana è stato veramente molto più in panta ha messo le corde e il Castel del Piano poi nel secondo tempo i patroni di casa si sono fatti vedere con più insistenza alla fine diciamo che è un pareggio più che giusto. Siamo partiti veramente bene, sono contento del primo tempo, è giusto la lettura. Poi al secondo tempo avevamo questa difficoltà che loro muovevano un pochettino di più le palle sugli esterni. Loro stessi un po' le condizioni non erano brillantissime perché se avessero avuto un pochettino più tecnica su determinati aspetti forse avrebbero avuto un risultato migliore. Mister Avedante tecnico del Castel del Piano, un primo tempo dove il Massamartana forse aveva messo un po' le strette poi nel secondo tempo siete usciti voi, il risultato è mancato anche per le prodezze di due portieri diciamo che il pareggio è il risultato più giusto. Il primo tempo siamo stati un pochino sotto le nostre aspettative, ci aspettavamo di fare un pochino meglio invece abbiamo fatto qualche errore di troppo. Sicuramente nel secondo tempo abbiamo fatto meglio abbiamo cercato di muovere più la palla, di cercare più quelle che sono le nostre giocate credo che soprattutto nella parte finale abbiamo creato due o tre occasioni importanti ha fatto due bellissime parate nel portiere avversario.